O la mozione della Lega è cambiata questa notte e non ci sono più quelle due condizioni di mancato aumento della spesa da una parte e di data certa di fissazione delle ostilità, che sono francamente incomprensibili, oppure Berlusconi ha preso un grosso abbaglio. L'Italia rischia di diventare in campo internazionale l'alleato meno affidabile in tutte queste operazioni. Noi siamo soltanto interessati a che l'Italia abbia in campo internazionale una credibilità e che le nostre mozioni rispecchino quello che è il mandato della risoluzione ONU. Credo che la nostra e quella del PD siano molto simili, mi auguro che siano simili anche a quelle della maggioranza perché altrimenti le contraddizioni della maggioranza, quelle sì, sarebbero gravissime e insuperabili.